Fratelli e sorelle del Signore, questa sera voglio parlarvi della mente, della mente come campo di battaglia del credente, perché tutte le battaglie, quasi tutte diciamo, le battaglie che il credente si trova ad affrontare passano, attraversano o si trovano comunque nella mente. A volte sono battaglie solo nella mente, nate solo da un'elaborazione mentale, altre volte nella mente avviene una battaglia perché ci sono degli stimoli esterni che arrivano, che ci arrivano nella nostra mente, che noi nella mente elaboriamo, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che ci arrivano degli stimoli, sentiamo delle parole, un discorso, delle accuse o qualsiasi altra cosa, ci arriva attraverso le orecchie, oppure altri stimoli ci possono arrivare attraverso gli occhi, vediamo qualcosa che ci piace o che non ci piace, oppure possono esserci anche attraverso il gusto o il tatto, capite? Cioè con i sensi, i sensi del nostro corpo che ricevono degli stimoli, il nostro corpo riceve degli stimoli esterni e convogliano nella mente, perché cosa succede nella mente? Che questi stimoli esterni ci fanno elaborare dei pensieri, questi stimoli fanno sorgere dei pensieri e questi pensieri vengono elaborati nella mente, cioè elaborati vuol dire che producono un giudizio, una valutazione e queste valutazioni, questi giudizi, questa elaborazione che noi facciamo nella nostra mente possono agire sulla nostra condotta, sul nostro comportamento. Faccio un esempio. Il fratello, noi non lo sapevamo, il fratello ci dice fratello guarda che devi fare questo, devi perseverare nella preghiera, quindi noi elaboriamo, pensiamo che questo è scritto nella Bibbia, ce l'ha fatto leggere nella Bibbia, siamo convinti, sempre elaboriamo nella nostra mente e arriviamo alla conclusione che è giusto, bisogna perseverare nella preghiera, vedete? Quindi da questo pensiero che abbiamo ricevuto esternamente l'abbiamo ascoltato, l'abbiamo elaborato, abbiamo valutato, giudicato e da qui noi ci impegniamo, la nostra condotta viene condizionata, vedete? Viene condizionata perché? Perché sappiamo che la parola ci ha convinto e dobbiamo impegnarci a perseverare nella preghiera, quindi ci mettiamo pregare tutti i giorni e questo è stato il frutto della elaborazione, della nostra elaborazione mentale. Questo proviene, quindi vedete, la mente può elaborare stimoli esterni, abbiamo citato uno stimolo dell'udito positivo, ma ci possono essere anche degli stimoli esterni che sono negativi, un'accusa, una calunnia contro un fratello che noi stimiamo, nella nostra mente si comincia una battaglia, va bene? La battaglia che cosa vuol dire? Vuol dire che nella nostra mente cominciamo a elaborare, se c'è un'accusa contro di noi o contro un caro fratello oppure anche una falsa dottrina, se uno viene e vi dice ma fratello ma tu lo sai che nella Bibbia non esiste l'inferno e tu nella mente se conosci le scritture, vedete, avviene comunque una battaglia, se tu conosci le scritture questa battaglia dura pochissimo, tu la espelli questo pensiero malvagio, questa falsa dottrina, perché? Perché conosci la parola, vedete, la conoscenza della parola ci aiuta, conosciamo la volontà di Dio, ci aiuta e quindi vinciamo in questa nostra battaglia che ci è arrivata dall'esterno questo pensiero, vinciamo perché riusciamo a espellere la menzogna, quello che non va bene, che cosa abbiamo elaborato attraverso la parola, abbiamo elaborato che quello è un messaggio falso, però voi immaginatevi, se una persona non conosce le scritture e non ha fiducia nella parola, gli viene detto guarda che Gesù Cristo non è mai esistito, guarda che Gesù non è Dio, guarda che l'inferno non esiste, non ha una base su cui appoggiarsi per combattere contro quel pensiero, per poter arrivare a elaborare un giudizio giusto, capite? Non ci arriva perché gli manca la conoscenza, quindi vedete, molto vale combattere nella nostra mente molto vale la conoscenza della parola di Dio. Altre volte, altre volte la nostra mente si trova a dover combattere, poi andiamo a leggere i passi, adesso stiamo facendo un'introduzione, altre volte la mente si trova a combattere stimoli che provengono dall'interno, quindi non sono stimoli esterni, ma nasce tutto dal nostro interno, ad esempio la gelosia, cominciamo a elaborare da dentro, amiamo nostra moglie, amiamo la nostra fidanzata, amiamo il nostro marito, il nostro fidanzato. Cosa succede? Succede che magari ci viene il pensiero, un pensiero così, vedete, sempre nella mente il combattimento, molte volte, sia quando lo vinciamo che quando lo perdiamo, avviene nella mente. Il campo di battaglia di un credente più importante è la propria mente, perché dalla mente dovrà valutare, esprimere un giudizio su quello che sta pensando, su quello che sta succedendo attorno a lui o dentro di lui. Quindi può, a un certo punto, l'assenza, l'allontananza di un marito, di una moglie per un numero di ore, uno può cominciare a pensare, ma perché sta mancando tanto? È uscita a tale ora, doveva già essere qui, e perché? E quindi se uno non vince la sua battaglia anche contro la gelosia, cosa succede? Succede che comincia a pensare cose sbagliate, cose negative, capite? Dalla mente la battaglia, se nella mente si comincia a covare uova di serpenti, cioè quando dei pensieri sbagliati vengono covati, cioè l'elaborazione a un certo pensiero va verso la direzione sbagliata, cova uova di serpente, queste poi quando si schiudono possono portare gravi conseguenze. E una di queste conseguenze è proprio quella che dalla mente la battaglia può scendere nel cuore, può arrivare fino al cuore, cioè può portare a creare dei sentimenti che possono essere molto negativi, capite? Se uno ti fa del male nella mente tu elabori, se non riesci a vincere e vedi quel male, ti viene voglia di vendicarti, ti viene voglia di odiare, di provare ostilità verso quella persona che ti sta facendo del male, ecco che se si creano questi sentimenti negativi hai perso la tua battaglia nella mente, invece ti hanno fatto del male, tu elabori il pensiero, senti il dolore, la sofferenza, ma sai attraverso le sacre scritture che devi vincere il male con il bene, devi amare i tuoi nemici, devi pregare per quelli che ti perseguitano, quindi attraverso la conoscenza della parola, ecco la comunione con Dio naturalmente, ecco che si reagisce a questi stimoli, a queste cose sbagliate che nascono, che si trovano a fermarsi nella nostra mente e dobbiamo arrivare a una conclusione, capite? Cioè noi non possiamo impedire che dall'esterno, anche dall'interno, possano nascere degli stimoli che ci portano a fare delle elaborazioni mentali, non lo possiamo impedire, quello che dobbiamo fare è tutto tenere sotto controllo e in maniera che attraverso le sacre scritture quello che noi elaboriamo, quello che noi alla fine decidiamo che sia giusto, dopo aver elaborato tutte quelle informazioni, quegli stimoli che sono arrivati a noi, l'importante è che li esaminiamo attraverso la parola e attraverso la parola arriviamo a una giusta conclusione, a una conclusione che è biblica, importante questo, perché quando noi elaboriamo nella nostra mente, che è il nostro campo di battaglia più importante, se noi pensando a certe cose sbagliamo la conclusione, poi ci porterà delle conseguenze negative, capite? E questo andiamo adesso a leggere, andiamo a leggere al versetto il primo versetto che citeremo oggi, capitolo 1 di prima Pietro, al versetto 13, perciò avendo scinti i fianchi della vostra mente e stando sobri abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata nella rivelazione di Gesù Cristo. Cosa vuole dire qua Paolo? Prima nel contesto l'Apostolo Pietro, scusate non Paolo ma Pietro, l'Apostolo Pietro ha parlato della salvezza che avevano ricevuto, di questa salvezza, e qui dice, quindi considerato quel perciò, quindi considerata la grande salvezza che avete ricevuto che avete ricevuto che abbiamo tutti noi ricevuto, avendo scinti i fianchi della mente e stando sobri abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata nella rivelazione di Gesù Cristo. Cioè, il Dio ci ha salvati, siamo stati salvati. Adesso noi dobbiamo cingere i fianchi della nostra mente con la verità, perché è nella mente che si formano, che si elabora ogni cosa, quelle sia positive che quelle negative. Quindi bisogna stare attenti, bisogna circondare la nostra mente, bisogna essere pronti e circondare la nostra mente con la verità, la verità della parola di Dio. Poi dice anche che bisogna stare sobri. Sì, devi essere controllato, non devi essere fuori da te stesso, non concentrato nelle cose del Signore, ma pensare a cose che non riguardano la salvezza, concentrarsi troppo sulle cose di questo mondo, ecco, stando sobri, non solo sobri che non bisogna essere ubriachi, perché l'ubriaco non capisce nulla, è fuori di sé, praticamente. Ecco, dobbiamo stare proprio concentrati, sempre presenti a noi stessi, perché se noi circondiamo, va bene, considerato che abbiamo ottenuto la salvezza, che se noi cingiamo la nostra mente, quindi consideriamo tutto quello che può succedere nella nostra mente, lo dobbiamo valutare attraverso la parola di Dio. Se teniamo conto che dobbiamo stare concentrati e sobri nel parlare, nel condurci, in tutto quello che noi facciamo, qual è la conseguenza, se noi facciamo questo? Che così avremo una piena speranza, capite? La speranza di che cosa? Di essere rapiti, di entrare nel Regno dei Cieli quando il Signore Gesù Cristo apparirà. Quindi siamo stati salvati, siamo stati salvati in speranza, quindi la nostra speranza è quella che, alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo, noi saremo rapiti con la Chiesa a incontrare Gesù nell'aria e a entrare così nel Regno dei Cieli, entrare nel Paradiso di Dio. Però badate bene che tra la salvezza e avere la piena speranza, Paolo pone queste due condizioni, questi due elementi, li cita questi due che sono importanti, e sono appunto la sobrietà, quindi essere sobri, vivere una vita sobria, sveglia, sempre concentrati, dovete sempre essere presenti a voi stessi, non vivere di illusioni. E poi quello della mente, che oggi a noi ci interessa in modo particolare. La mente, cingere la mente, i fianchi della nostra mente, e lo dobbiamo fare con la parola di Dio. Perché badate bene, tutto quello che accadrà, tutti gli stimoli che ci colpiranno dall'esterno e anche verranno dall'interno, verranno elaborati nella nostra mente. E se noi non affrontiamo con coraggio, con la forza che Dio ci dà, con la comunione con Dio e con la conoscenza della parola, se non affrontiamo quei pensieri, a volte positivi, molte volte negativi, cattivi, malvagi, se noi non li affrontiamo, non circondiamo la nostra mente con la parola di Dio, rischiamo di perdere, rischiamo di produrre dei danni alla nostra vita, alla nostra vita spirituale. E oggi affrontiamo proprio questo aspetto, questo aspetto delle battaglie che avvengono nella nostra mente per diversi stimoli che arrivano a noi, che noi elaboriamo, che noi consideriamo ed esprimiamo poi un giudizio. Questo giudizio su quello che abbiamo ricevuto, che è entrato nella nostra mente, può condizionare la nostra condotta, il nostro comportamento. e lo può fare sia in senso positivo, perché se tu non conoscevi un passo della scrittura e ti viene detto, ti viene insegnato, adesso lo sai e ti comporti di conseguenza. Se invece sbagli questa elaborazione mentale, tu rifiuti la parola, stai diventando nemico di Dio, nemico della parola. E quindi, vedete, la tua condotta è del ribelle, ti sei opposto a quello che Dio ti sta dicendo. Vedete, due opposti comportamenti, arriva un messaggio e in base a come una persona lo elabora nella propria mente ed esprime e conclude questa elaborazione con un giudizio, con una valutazione, se la valutazione è giusta, ne avrà grande beneficio davanti a Dio e la sua condotta lo farà vedere. Se invece uno sbaglia elaborazione, sbaglia giudizio, valutazione, e allora si pone in debito nei confronti di Dio perché si sta conducendo male e sta pensando cose sbagliate. Quindi noi dobbiamo essere amici di Dio anche nella nostra mente, questo è importante, noi dobbiamo avere la mente di Cristo perché avendo la mente di Cristo praticamente non c'è spazio per tutte le menzogne, non c'è spazio per tutte le malvagità, non c'è spazio per elaborare le cose sbagliate. Anzi, tutto quello che ci arriva noi lo elaboriamo, facciamo esperienza e lo trasformiamo, lo controlliamo da cima a fondo attraverso la parola di Dio. se noi facciamo questo arriveremo sempre a trovare la giusta, a fare una giusta deduzione e valutazione dei nostri pensieri. però fate attenzione, ricordatevelo che se uno perde, perde, allora ci sono delle conseguenze ed è proprio questo che adesso andremo a vedere perché ci sono sia conseguenze positive che conseguenze negative dopo diversi attacchi che ci sono, che una persona subisce. quando subisce degli attacchi ci possono essere delle conseguenze e gli attacchi passano, badate bene, passano tutti attraverso la mente. Quindi è lì la nostra battaglia più importante, è lì che noi dobbiamo vincere e prima di tutto lo dobbiamo sapere che avviene questo e quindi poi dobbiamo reagire di conseguenza. ricordandoci sempre che Pietro ci ha messi in guardia, badate bene che siete stati salvati, però adesso ponete mente a questo che dovete circondare la vostra mente con la verità, dovete stare sempre presenti a voi stessi stando sobri, non ubriacandovi, uscendo fuori da se stessi perché così avrete la piena speranza, la piena speranza che quando ritornerà il Signore voi sarete accolti da Lui e questo quindi la mente passa anche attraverso la mente passa il concetto che noi saremo salvati se abbiamo una giusta considerazione anche di tutto quello che succede nella nostra mente in questo grande campo di battaglia che non dobbiamo assolutamente ignorare. vediamo adesso andiamo al libro della Genesi e vediamo una battaglia che è stata persa una battaglia che è stata persa ed è questa il peccato di Eva cosa è successo? siamo a capitolo 3 di Genesi che il Dio diede un ordine preciso diede un ordine preciso e il Dio ha detto mangia pure l'ordine questo mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai vedete c'è un comandamento il precetto i comandamenti alcuni comandamenti ci hanno vedete questo qui è un comandamento di Dio che c'è il precetto c'è il comando che devi fare o non devi fare e poi c'è la sanzione c'è la punizione che avrebbe ricevuto Adamo se avesse contraddetto quel 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 comandamento che era quello di morire e quel giorno lì che ne ha mangiato sia Adamo che Eva infatti sono morti spiritualmente però non fisicamente è una morte spirituale dovuta al peccato ora Dio avendo dato quel comando cosa avviene nel giardino dell'Eden adesso leggiamo come Satana parlando ad Eva quindi gli dà uno stimolo esterno vedete Satana parla ad Eva per sedurla con parole seducenti quelle parole arrivano alle orecchie di Eva Eva le deve valutare capite ed è lì la sconfitta avviene lì noi non possiamo impedire che il maligno talvolta ci sussurri qualche pensiero malvagio nell'orecchio qualche spirito immondo ci può sussurrare nelle orecchie non sappiamo come ciò avvenga ma avviene avviene e tutti questi pensieri malvagi attenzione possono creare una battaglia dentro di noi nella nostra mente e quindi dobbiamo stare attenti a respingere tutti tutti quei pensieri malvagi respingerli con la parola di Dio se il maligno se ad esempio taluni credenti sentono dicono tu ti devi suicidare la parola di Dio cosa dice il suicida va all'inferno tu non devi non è volontà di Dio che uno si suicidi e quindi sai già che quel pensiero è grandemente malvagio voi immaginate una persona che soffre che sta soffrendo che sta soffrendo prove dure che è malato oppure ha perso dei cari si trova in una situazione di debolezza spirituale fisica e anche mentale è lì che il maligno può intervenire per cercare di distruggere di combattere nella mente per poter produrre un sentimento negativo e così annientare spiritualmente quella persona togliergli anche talvolta creando turbamento togliendogli anche quella pace e quella gioia che un credente ha quindi i motivi possono essere tanti e qui la seduzione di Eva avviene in questa maniera capitolo 3 di Genesi dal versetto 1 or il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno il Dio aveva fatti ed esso disse alla donna come il Dio vi ha detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino e la donna rispose al serpente del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino il Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate che non abbiate a morire e il serpente disse alla donna no non morrete affatto ma il Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio avendo la conoscenza del bene e del male e la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi che era bello a vedere e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente prese del frutto ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei ed egli ne mangiò e poi morirono spiritualmente praticamente cosa ha fatto Satana Satana è chiamato il seduttore cioè colui che fa dei discorsi per ingannare le persone qui ha cercato di ingannare Eva va bene naturalmente non gli ha citato il diavolo il comandamento di Dio così come è scritto non l'ha citato l'ha citato come voleva lui mentre il comando diceva chiaramente Dio ha dato l'ordine mangia di tutti i frutti del giardino va bene questa è la prima parte è semplice mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino ma quindi ad eccezione di il discorso che ha fatto Dio è semplice è chiaro puoi mangiare di tutto tranne quello capite mentre il diavolo che discorso ha fatto dice ma come Dio vi ha vietato di mangiare di tutti i frutti dell'albero del giardino vedete ha messo confusione ma come non potete il Dio vi ha ordinato di non mangiare tutti i frutti del giardino vedete non l'ha specificato c'è una grande confusione ma perché l'obiettivo suo qual è quello di ingannare poi ha continuato si è opposto il Dio cosa aveva detto aveva detto nel giorno che ne margerete guardate morrete esatto una cosa ha fatto siccome dalla risposta di Eva vediamo che Eva aggiunge perché non l'ha comandato il Dio aggiunge anche il fatto che dice Dio ha detto di non ne mangiate non lo toccate questo di non toccarlo non c'era nel comando iniziale di Dio quindi l'ha aggiunto Eva e questo è il primo segnale che Eva stava cedendo ma a che livello stava cedendo Eva stava cedendo al livello mentale quelle parole di Satana stavano producendo un effetto e dov'è questo effetto che nasceva negativamente nella mente stava perdendo nella mente vedete gli insegnamenti sbagliati la seduzione come agisce mete confusione poi continua a dire il diavolo dice no non morretti affatto cioè anche se ne mangerai tu non morrai cioè come dire Dio ha mentito capite quindi qui Eva doveva essere ferma nella mente se aveva fede in Dio se conosceva la volontà di Dio perfettamente avrebbe dovuto respingere questi attacchi del maligno respingere non impedire che Satana parlasse non poteva impedire che parlasse però poteva impedire che quelle parole producessero un effetto negativo nella sua mente perché doveva respingere dire no Dio ha detto che morremo io credo a Dio non a te capite e poi avrebbe dovuto dire no Dio fa mangiare di tutti i cibi non solo uno ha detto che non ne dobbiamo mangiare perché se no morremo poi dopo qual è l'effetto che ha prodotto la seduzione del diavolo in Eva e questo badate bene è nella sua mente la sconfitta di Eva è iniziata nella sua mente nella elaborazione guardate l'elaborazione dei giudizi di Eva che li ha fatti dopo aver sentito i discorsi del diavolo di Satana e dice e la donna vedete come lo spiega la scrittura e la donna vide quindi Satana ha fatto concentrare l'attenzione della donna su quel frutto la donna guardò il frutto lo vide e lo vide che era buono cioè lo vide in una maniera come prima non l'aveva mai visto o non si era mai interessata in questa maniera di quel frutto forse sapendo che non lo poteva mangiare non l'aveva mai guardato con questi occhi vedete quindi nella sua mente c'era già stata la sconfitta perché lo stava guardando con desiderio lo stava guardando perché voleva aveva nella sua mente aveva diciamo accettato il discorso che il maligno gli faceva non lo ha respinto non lo ha chiuso le porte non ha circondato la sua mente della verità di Dio e quindi ha permesso che questi pensieri entrassero cioè che questi pensieri fossero elaborati e arrivassero ad una conclusione che noi sappiamo che e quindi è sbagliata quindi in tutta questa battaglia nella mente di Eva cosa cominciò a vedere a vedere che l'albero che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi cioè vede che era buono a mangiarsi era bello a vedersi eppure l'albero era desiderabile alla fine vedete voleva diventare voleva diventare intelligente perché il diavolo gli aveva detto no il giorno che tu ne mangerai il giorno che tu disubbiterai a Dio diventerai più intelligente e disubbidendo a Dio che si diventa intelligente non mi sembra ora dove c'è stata la battaglia per elaborare le cose giuste e cacciare via quelle sbagliate è avvenuto nella mente di Eva quindi vedete la battaglia di quella seduzione si è svolta nella mente di Eva e nella mente di Eva è successo che ha perso ha cominciato a guardare a desiderare a vederlo in un'altra maniera quel frutto quindi è passato anche ai suoi sentimenti vedete stava intaccando quella sconfitta della elaborazione mentale delle parole del maligno stava diventando anche un sentimento si è sentita spinta attratta quindi vedete questo perché attenzione lo studio di come è avvenuta la seduzione di Eva è fondamentale questo dobbiamo conoscerla in ogni minimo dettaglio perché perché poi è la seduzione che il maligno cerca di fare con tutti i credenti con tutti i cristiani con tutti anche i non credenti la seduzione è sempre quella e noi è nella mente ecco perché Pietro ci ha messo in guardia nella mente fai attenzione a tutto quello che arriva nella tua mente perché non tutto deve soffermarsi nella tua mente quello che è sbagliato che è falso non è che ti devi mettere lì a elaborarlo ma forse potrebbe anche essere prendiamo il buono stai attento perché se comincia a penetrare il messaggio falso comincia poi a produrre il suo effetto la seduzione dopo comincia a agire può scendere nel cuore può creare un sentimento sbagliato l'elaborare in maniera sbagliata certi pensieri quindi dobbiamo stare concentrati ecco perché è anche importante la sobrietà perché devi stare concentrato tu queste cose le devi sapere perché sei ogni giorno in battaglia stai combattendo tutti i giorni è nella tua mente il campo di battaglia più grande nel quale si svolgono tutte le tue battaglie se perdi qualche cosa la perdi lì nella tua mente e poi intaccherà anche i tuoi sentimenti e intaccherà dopo anche la tua condotta capite e quindi è importantissimo vincere le nostre battaglie nella nostra mente circondandoci la mente con la parola di Dio cosa ha fatto Eva ormai il maligno aveva avuto la meglio ed è andata a finire come come sappiamo Eva ha mangiato di quel frutto l'ha fatto mangiare poi anche all'uomo a suo marito ad amo e morirono tutti e due spiritualmente morirono avvenne quello che Dio quello che Dio aveva detto che sarebbe successo se avessero mangiato di quel frutto dalla conclusione cosa vediamo vediamo anche che vediamo che quello che Dio dice quello avviene badate bene questo passaggio del primo peccato non il primo peccato nella creazione di Dio il primo peccato dell'uomo perché il primo peccato delle creature di Dio lo ha commesso il diavolo sapete quando il diavolo vuole essere più in alto di Dio più grande di Dio peccò d'orgoglio quello fu il primo peccato il primo peccato dell'uomo invece lo troviamo in Eva e poi quello di Adam e questo peccato cosa è successo è successo cosa ha prodotto ha prodotto la morte ma non solo la morte di Adamo e di Eva spiritualmente ha prodotto anche la morte spirituale di tutti i discendenti di Adamo e di Eva quindi vedete quanto è diciamo è stato importante e dannoso quel quel peccato che è stato commesso quindi badate bene a volte una sconfitta nella mente può portare delle grandi conseguenze come vediamo vedremo anche altri passi non è l'unico però vedete anche voglio anche citarvi questo che quello che Dio ha detto quello avviene quindi dovete avere piena fiducia nella parola di Dio perché quello che Dio ha detto in passato e ci sono molte cose che sono avvenute esattamente come Dio le aveva predette e così avverranno ancora quelle che devono ancora avvenire quelle che Dio ha predetto avverranno sicuramente non tarderanno ma al suo tempo si avvereranno e questo è il primo passaggio ora vorrei citarvene anche un'altra seduzione però in questo caso questa battaglia a che cosa ha portato ha portato alla vittoria bene quando Giuseppe fu venduto in Egitto dai propri fratelli fu poi comprato come schiavo da Potifar uno degli ufficiali di di faraone un capitano delle guardie va bene siamo al capitolo 39 di Genesi cosa avvenne cosa avvenne che Giuseppe praticamente c'era questo capitano e Dio benediceva grandemente Giuseppe e tutto quello che lui toccava lo faceva funzionare bene capite e quindi Potifar l'ufficiale di faraone gli aveva messo in mano tutte le cose naturalmente tranne sua moglie tranne la moglie di Potifar e Giuseppe questo lo sapeva ora questa moglie però voleva era una donna malvagia vedete una concupiscenza carnale bisogna stare attenti perché i nemici sono tanti ci attaccano in tutti i modi fanno leva anche sulla carne sul desiderio di apparire sul sentirsi importanti sul aumentare diciamo il proprio potere sugli altri aumentare la quantità di denaro posseduto questi sono i punti nel quale il maligno cerca di fare leva per far cadere le persone per far cadere anche i propri figlioli in questo caso noi vediamo come come diciamo quella donna ha cercato di far cadere Giuseppe 39 dal versetto 7 di Genesi dopo queste cose avvenne che la moglie del Signore di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse giaciti mecco cioè abbi i rapporti con me ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo Signore ecco il mio Signore non si informa da me di nulla che nella casa e ha messo nelle mie mani tutto quello che ha egli stesso non è più grande di me in questa casa e nulla mi ha divietato tranne che tranne che te perché sei sua moglie come dunque potrei io fare come dunque io potrei io fare questo gran male e peccare contro Dio vedete come vedete come Giuseppe gli ha risposto bene vedete ha respinto poi cosa è successo è successo che questa donna ha continuato tutti i giorni lo assaltava e questa è la situazione che il maligno fa con ciascuno di noi conosce anche i nostri punti deboli quindi c'è un assalto continuo e tu se non hai la tua mente pronta se tu non hai la tua mente circondata della verità se tu non sei sobrio se tu non sei presente a te stesso verrà il momento che poi cadi e le conseguenze sono devastanti invece Giuseppe ha sempre resistito poi come è andata a finire la cosa allora dal versetto per non leggere tutto vabbè leggiamolo fino al versetto 23 quindi abbiamo letto fino al versetto 10 ah no dal versetto 10 quindi 39 10 e benché gliene parlasse ogni giorno cioè ogni giorno quella donna la moglie di Potifar voleva avere rapporti con Giuseppe quindi ogni giorno capite come era forte questa tentazione quest'attacco nei confronti di Giuseppe ma Giuseppe resisteva e benché gliene parlasse ogni giorno Giuseppe non acconsentì né a giacersi né a stare con lei or avvenne che un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro e non c'era quivi alcuno della gente di casa ed essa lo afferrò per la veste e gli disse giaciti mecco ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì fuori vedete una prontezza una forza di Giuseppe non ha aspettato oltre e fuggito infatti la scrittura cosa ci dice fuggire il male e temere Dio questa è la sapienza questo è quello che il Signore vuole da noi temere Dio e fuggire il male e questo è anche il tutto dell'uomo fuggire il male vuol dire proprio opporsi cioè non stare lì non pensare tu di essere più forte di Eva e di resistere alla tentazione di resistere ai discorsi che il maligno fa non c'è un uomo che può resistere quello che possiamo fare noi è fuggire dal peccato vedere cercare di vedere dov'è il peccato nascondersi e fuggire dal peccato non affrontarlo perché tanto rischi solamente capite è un rischio egli le lasciò in mano la veste e fuggì fuori e quando ella vide che egli le aveva lasciato la veste in mano che era fuggito fuori chiamò la gente della sua casa e le parlò così vedete eici ha menato in casa un ebreo per pigliarsi gioco di noi esso è venuto da me per giacersi mecco ma io ho gridato a gran voce e come egli ha udito che io alzavo la voce e gridavo mi ha lasciato qui la veste ed è fuggito fuori e si tenne accanto la veste di lui finché il suo signore non fu tornato a casa allora ella gli parlò in questa maniera quel servo ebreo che tu ci hai menato venne da me per pigliarsi il gioco di me ma con mio ho alzato la voce e ho gridato egli mi ha lasciato qui la sua veste e se ne è fuggito fuori quando il signore di giuseppe ebbe intese le parole di sua moglie che gli diceva il tuo servo mi ha fatto questo l'ira sua si infiammò e il signore di giuseppe lo prese e lo mise nella prigione nel luogo dove si tenevano chiusi i carcerati del re egli fu dunque là in quella prigione ma l'eterno fu con giuseppe e spiegò a pro di lui la sua benignità cattivandogli le grazie del governatore della prigione e il governatore della prigione affidò alla sorveglianza di giuseppe tutti i detenuti che erano nella carcere e nulla si faceva qui senza di lui il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui perché l'eterno era con lui e l'eterno faceva prosperare tutto quello che gli intraprendeva vedete il dio era della parte di giuseppe il dio è dalla parte di tutti quelli che resistono al peccato capite allora non si può impedire che il peccato ti attacchi e ti tenti si può vincere però contro il peccato si deve dominare si deve cominciare a controllare la propria mente quindi cosa stai pensando cosa ottieni ecco quindi vedete la parola di dio come ci sovviene sei tentato cosa ottieni se pecchi cosa ottieni invece se fuggi eccolo un esempio un esempio è che puoi essere anche calunniato badate bene puoi essere anche attaccato puoi essere anche incarcerato ma il dio non ti abbandonerà sarà con te perché tu starai subendo perché se hai fuggito il male capite puoi essere anche calunniato ma se tu hai fatto il bene alla fine il dio ti darà onore il dio è sempre con te il dio è sempre con noi quindi noi non dobbiamo dispiacergli in nessuna cosa dobbiamo avere sempre il pensiero fisso prima Gesù Cristo quello che mi sta succedendo quello che mi stanno dicendo glorifica il Signore gli da gloria è scritto nella parola se non è scritto non esitate rigettate tutto rigettate tutto perché attenzione sta cercando qualcosa di sbagliato di penetrare nella vostra mente e di farvi far nascere un sentimento che è negativo capite e poi da questo ci sarà una condotta sbagliata che vi porterà porterà devastazione nella vostra vita nella vita di ogni credente quindi bisogna fare attenti bisogna stare attenti bisogna stare attenti a come elaboriamo gli stimoli esterni che arrivano a noi capite quelli che non sono da Dio vanno subito rigettati il male va fuggito non è che ce lo dobbiamo tenere lì capite che prima o poi ci prenderà con debolezza e ci farà del male contrariamente contrariamente alla vittoria di Giuseppe contro la tentazione e il peccato abbiamo invece una sconfitta del re Davide adesso dobbiamo andare a leggere in seconda Samuele dove il re Davide voi sapete bene la storia di la storia di Davide e di Batisheba cosa è successo che adesso andiamo a leggere quindi andiamo a leggere da seconda Samuele capitolo 11 leggiamo dal versetto 2 leggiamo dal versetto 2 una sera Davide alzatosi dal suo letto si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale e dalla terrazza vide una donna che si bagnava e la donna era bellissima Davide mandò ad informarsi chi fosse la donna e gli fu detto e Batisheba figliola di Elia moglie di Uria lo itteo e Davide inviò gente a prenderla ed ella venne da lui ed egli si giacque con lei che si era purificata della sua contaminazione poi ella se ne tornò a casa sua la donna rimase incinta e lo fece sapere a Davide dicendo sono incinta vedete cos'è avvenuto è avvenuto che Davide passeggiava nella terrazza nella terrazza del suo palazzo reale con gli occhi vedete qui gli stimoli nella sua mente che cosa ha elaborato ha elaborato qualcosa un pensiero che è derivante da quello che vide una donna bellissima che si lavava dalle sue contaminazioni dei corsi ordinari capite uno deve andare a lavarsi in acqua non so adesso quanto poteva evitare di farsi vedere Bathsheba questo io non lo so però quello che la scrittura ci dice è questo che Davide guardò dalla terrazza e rimase colpito dalla bellezza di quella donna vedete vedete cosa ha elaborato nella sua mente ha visto una donna bella con gli occhi l'ha vista e ha elaborato nella sua mente il desiderio di averla infatti si è informato di lei e l'ha fatta venire a chiamare l'ha fatta chiamare per giacersi con lei da che cosa è scaturito tutto da quello che Davide ha visto quindi vedete è importante che il credente anche dal punto di vista dei suoi occhi deve stare attento a quello che guarda devi già saperlo perché che cosa può avvenire che da quello che guardi tu puoi avere una reazione uno stimolo che arriva nella tua mente che si elabora un pensiero si fanno delle valutazioni sorgono dei desideri in quel caso di Davide è sorto il desiderio di avere una donna che non è sua non era sua ne poteva avere il Dio gli poteva dare se era delle donne belle che voleva il Dio gli poteva dare anche altre concubine e mogli ne aveva già diverse ma lui prese una donna che non era sua la desiderò vedete in questo caso Davide non riuscì a vincere contro gli stimoli che avevano prodotto nella sua mente una valutazione sbagliata non è riuscito a vincere è nato un desiderio e questo desiderio lui ha elaborato un piano per averla infatti l'ha mandata si è informato di lei e poi l'ha mandata a chiamare con lo scopo opposito di giacersi con lei capite quindi vedete come anche la vista può far elaborare anche attraverso la vista può avvenire nella nostra mente una battaglia una tentazione una battaglia e se noi perdiamo e facciamo delle valutazioni sbagliate possiamo pagarne poi le conseguenze intanto questa prima la vista elaborazione mentale desiderio quindi è già sceso più in profondità quello che Davide ha visto ed è diventata una cosa forte è diventata un'attrazione forte che poi è scaturita nel diciamo mettere in atto un piano per poterla avere capite e dopo si è giaciuto con lei ma cosa è successo è successo che è rimasta incinta quindi il peccato non è che si è nascosto l'ha avuta nessuno sa niente vabbè lo sapevano anche quelli che l'hanno fatta chiamare però non poteva nascondere il suo peccato più perché è rimasta incinta e quindi come è andata a finire prima ha cercato di coprire il suo peccato facendo tornare Urialloiteo suo marito dalla guerra per farlo giacere con la moglie affinché si pensasse che lei era rimasta incinta del marito capite ma Urialloiteo che era un uomo giusto attenzione era un uomo leale non si volle giacere con sua moglie pensando che i suoi compagni i soldati erano in guerra mentre lui si divertiva lì nella sua tenda con sua moglie e non lo ha voluto fare questo ha rovinato il piano di copertura di Davide allora cosa ha fatto ha ideato un altro modo ha fatto uccidere Urialloiteo vedete quanta malvagità c'è stata nel cuore di quell'uomo e tutto questo perché perché agli stimoli che della vista che lui ha ricevuto ha cominciato a elaborare cose sbagliate nella sua mente ha cominciato a valutare ha cominciato a farsi prendere dai desideri vedete ma vi rendete conto quanto è importante sapersi controllare anche nei pensieri in tutto quello che succede nella nostra mente cosa ci arriva a noi lo dobbiamo valutare attentamente rigettare tutto quello che non è da Dio altrimenti ci riempiamo di guai ci si riempie di guai se non si rigettano le cose che non sono da Dio e che non sono buone diversamente invece se rigettiamo riusciamo con la conoscenza della parola e anche con la comunione con Dio se riusciamo il Dio poi ci benedirà grandemente come poi ha benedetto Giuseppe Giuseppe dopo dal carcere è passato ad essere il secondo dopo Faraone immaginatevi voi non era neanche egiziano era il secondo dopo Faraone quindi diventò anche più potente di Potifar capite quindi è vero che Dio può permettere in un momento che la calunnia che le accuse ti possano schiacciare ma il Dio poi ti renderà giustizia sappilo questo quindi se soffri un po' adesso in un momento sappi che dopo se stai soffrendo ingiustamente il Dio ti renderà giustizia e anche questo perché perché quando stiamo diciamo soffrendo non dobbiamo farci prendere vedete questi sono stimoli interni no? come dire se Giuseppe si fosse fatto prendere visto che Dio mi ha abbandonato e mi ha fatto chiudere in carcere Giuseppe avrebbe potuto dire vedi se ci fosse il Dio se Dio esistesse non avrebbe permesso questo invece no il Dio aveva un piano il Dio aveva un suo piano ben preciso quindi anche gli stimoli interni che nacquero in Giuseppe da dentro se stesso dei pensieri che ha dovuto elaborare sicuramente non ha lasciato spazio ai pensieri negativi a pensieri che non erano secondo Dio e poi la fine che ha fatto Giuseppe ce lo dimostra perché diventò il secondo dopo Faraone perché perseverò nel confidare completamente nel Signore Davide invece vedete le conseguenze di Davide le conseguenze di Davide furono che vide diversi suoi figlioli dopo morire le sue mogli giacquero con Absalom si giacque con tutte le sue mogli ci fu una guerra civile nello stesso popolo di Israele quelli che patteggiavano per Davide contro quelli che patteggiavano per Absalom suo figliolo ci furono molti morti e tutto a causa del fatto che Davide sbagliò peccò gravemente è vero che Dio non lo fece morire che chiese perdono gli mandò il profeta Nathan a riprenderlo e lui riconobbe l'errore però è vero che delle conseguenze visto il suo peccato grave di adulterio e di omicidio che erano peccati gravi comunque ha avuto le sue conseguenze quindi patate bene quando si perde stai guardando una cosa e perdi ne appagherai le conseguenze quindi dobbiamo stare attenti a tutto quello che in noi provo tutti gli stimoli che arrivano a noi quello che ascoltiamo quello che vediamo quello che tocchiamo quello che assaggiamo capite a tutto perché tutto questo può produrre dei pensieri che sono malvagi e quindi rischiamo di perdere la nostra battaglia mentale cosa che invece dobbiamo sempre vincere adesso voglio parlarvi di qualcosa che può scatturire internamente quindi uno stimolo che arriva a far elaborare nella mente una persona ma può non venire può venire sia dall'esterno ma anche soprattutto dall'interno quindi dai propri sentimenti andiamo a leggere in proverbi sto parlando della gelosia che cos'è la gelosia la gelosia è il pericolo di perdere una persona di perdere l'affetto di una persona a cui ci teniamo tanto sorge la gelosia perché avvertiamo magari il pericolo di perdere quella persona che noi amiamo tanto oppure che se è la moglie o il marito ma può essere anche un caro fratello una cara sorella quindi proviamo un affetto e abbiamo quindi sorge una gelosia perché temiamo di perdere quella persona e questo è un sentimento un sentimento molto forte guardate bene e bisogna e c'è anche questo sentimento ed è nella vita di tutte di molte persone magari non di tutte ci sono quelli che dicono di non essere gelosi di non subire proprio questo tipo di sentimento ma molti invece sentono lo provano questo sentimento e può portare grandi devastazioni se non viene affrontato nella maniera corretta e questo è uno stimolo a volte che nasce internamente alla persona elaborando i propri pensieri così senza che ci sia un pericolo effettivo perché se la gelosia è il pericolo di perdere una persona come si deve reagire alla gelosia si deve reagire in questa maniera bisogna riflettere e dire e dire ma il pericolo qual è è un pericolo sicuro oggettivo c'è qualcuno che sta insidiando veramente mia moglie o il mio marito oppure è un mio solo pensiero e non ci sono prove certe capite se non ci sono prove certe perché la gelosia può scattare anche senza prove senza elementi certi concreti ecco in quel caso noi dobbiamo reagire sempre riflettendo attraverso la parola bisogna stare attenti dobbiamo sapere che c'è questa cosa e se non c'è un motivo valido non dobbiamo farci vincere dalla gelosia perché poi la gelosia può portare a discussioni con la persona a discussioni con altre persone però riconosco che anche la scrittura lo dice è un sentimento che è molto forte è molto forte quindi quando quando prende una persona in quei momenti che lo prende può veramente devastarlo questo spirito di gelosia può veramente fargli tanto male e quindi dobbiamo sapere che c'è e dobbiamo sapere che anche a livello mentale dobbiamo vincere qual è il pericolo concreto che io devo elaborare con la mia mente per temere veramente per temere che quella persona mi venga tolta capite quindi devono esserci elementi concreti io posso far scoppiare una scenata di gelosia senza che ci siano elementi capite quindi bisogna fare attenzione ora leggiamo dove ne parla in proverbi e poi anche la legge parla della gelosia leggeremo qualche passaggio allora proverbi 27 4 l'ira è crudele e la collera impetuosa ma chi può resistere alla gelosia vedete cioè quando lo spirito di gelosia ti prende qui la contrappone vedete dice che l'ira è crudele cioè quando uno prova un odio forte e arrabbiato tantissimo può fare delle cose malvagie nei confronti di determinate persone quindi l'ira produce crudeltà poi la collera è impetuosa una volta quando uno è arrabbiato sembra che alcuni non li possono fermare se non tre quattro persone quindi è veramente piena di forza di energia è impetuoso quando uno si fa prendere dalla collera però qui dice che è ancora più grande perché la gelosia è ancora più grande perché chi può resistere cioè mentre a un uomo che si fa prendere dalla collera impetuosa potresti anche fermarlo a un uomo che si fa prendere dall'ira e dalla crudeltà potresti anche fermarlo ma è cosa ancora più difficile fermare la gelosia capite e quindi bisogna considerare anche questo sentimento perché la gelosia è qualcosa di interiore un sentimento che nasce ripeto dal pericolo di perdere una persona cara ecco che cos'è la gelosia ed è un sentimento fortissimo forte quasi come l'amore capite è un sentimento molto forte e dobbiamo sapere che c'è però anche quello noi lo dobbiamo dominare dobbiamo valutare con la nostra mente ci mettiamo seduti con calma e valutiamo se ci sono effettivamente i pericoli che la nostra mente sta elaborando che molte volte uno si fa prendere dalla gelosia senza motivo cioè è andata mia moglie è andata al supermercato a fare la spesa sta aspettando sto aspettando che ne so dieci minuti in più mezz'ora in più e che cosa avrà sarà successo qualcosa è inutile pensare da questo ritardo che stia tradendo o comunque ti stia abbandonando capite non ci sono elementi se non ci sono elementi non si deve sviluppare il pensiero della gelosia non lo dobbiamo alimentare perché attenzione se lo alimenti poi diventa forte dopo non riesci più a calmarlo perché è una cosa molto forte capite quindi attenzione dobbiamo riconoscere anche questo e combattere anche questo spirito di gelosia a livello mentale sempre con la verità cioè il pericolo che tu avverti è reale o no perché se non è reale tu non devi dire nulla non puoi dire nulla capisci non puoi attaccare nessuno e purtroppo però riconosco che è un sentimento molto forte questo lo riconosce anche la legge e noi andiamo adesso a leggere qualcosa che viene scritta nella legge anche di questo sentimento che sempre molte volte scoppia non ci sono molte volte motivi validi affinché scoppi una discussione ma è solo la gelosia che è un sentimento questo pericolo che non esiste ma una persona lo vede e lo vede perché? perché nella mente ha perso perché nella mente non ha tenuto in considerazione le cose giuste ha fatto delle valutazioni sbagliate capite? e ha alimentato questo sentimento che può diventare negativo cioè che ce n'è un po' può anche far piacere ed essere giusto non vuol dire che tu quella persona ci tieni ma se diventa se soffoca il rapporto delle persone allora allora non va più bene allora è dannoso perché sta soffocando toglie l'aria non ti fa vivere bene capite? né a te che lo provi né a quella persona su cui scarichi tutta la gelosia leggiamo adesso numeri andiamo in numeri al capitolo 5 dove parla della gelosia leggiamo dal versetto allora leggiamo dal versetto 11 l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo parla ai figlioli di Israele e di loro se una donna si svia dal marito e commette una infedeltà contro di lui se uno ha relazioni carnali con lei e la cosa è nascosta agli occhi del marito se ella si è contaminata in segreto senza che vi siano testimoni contro di lei o che ella sia stata colta sul fatto ove lo spirito di gelosia si impossessi del marito e questi diventi geloso della moglie che si è contaminata ovvero lo spirito di gelosia si impossessi di lui e questi diventi geloso della moglie che non si è contaminata quell'uomo menerà la moglie al sacerdote e porterà un'offerta per lei un decimo d'effa di farina d'orzo non vi spanderà sopra olio né vi metterà sopra incenso perché è un'oblazione di gelosia un'oblazione commemorativa destinata a ricordare una iniquità il sacerdote farà avvicinare la donna e la farà stare in pie davanti all'eterno poi il sacerdote prenderà dell'acqua santa in un vaso di terra prenderà pure della polvere che sul suolo del tabernacolo e la metterà nell'acqua il sacerdote farà quindi stare la donna in pie davanti all'eterno le scoprirà il capo e porrà in mano di lei l'oblazione commemorativa che è l'oblazione di gelosia e il sacerdote avrà in mano l'acqua amara che arrecca maledizione il sacerdote farà giurare quella donna e le dirà se nessun uomo ha dormito tecco e se non ti sei sviata per contaminarti ricevendo un altro invece del tuo marito quest'acqua amara che arrecca maledizione non ti faccia danno ma se tu ti sei sviata ricevendo un altro invece del tuo marito e ti sei contaminata e altri che il tuo marito ha dormito tecco allora il sacerdote farà giurare la donna con un giuramento di imprecazione e le dirà l'eterno faccia di te un oggetto di maledizione e di esecrazione fra il tuo popolo facendoti smagrire i fianchi e gonfiare il ventre e quest'acqua che arrecca maledizione ti entri nelle viscere per farti gonfiare il ventre e smagrire i fianchi e la donna dirà amén amén e continua ancora la legge cosa ci fa capire questo ci fa capire che diciamo la gelosia lo spirito di gelosia può prendere una persona anche anche se non ha elementi infatti dice sia se quella donna si è contaminata quindi uno dubita della condotta della moglie o del marito se uno dubita e ha determinate prove è una cosa se uno dubita e non ha prove guardate bene che lo spirito di gelosia è forte lo stesso è talmente forte che Dio ha dovuto prevedere una legge apposita per far calmare gli animi dei mariti gelosi capite che magari il marito andava in viaggio era più e quindi lasciava la moglie magari solo andava in guerra come è successo per Uri alloiteo andava in guerra e però la gelosia poteva prenderlo uno spirito di gelosia e Dio vedete come ha fatto calmare tutto con un'apposita legge quindi senza darsi a sfoghi arrabbiature che non portano a nulla e non provano nulla ha stabilito una legge nel quale sarebbe stato Dio stesso a far emergere se quella donna l'aveva tradito oppure no quindi anche oggi cosa facciamo mettiamo tutto nelle mani di Dio dobbiamo mettere tutto nelle mani di Dio dobbiamo armarci di questo pensiero quindi se una donna se tu pensi che ti abbia tradito stai tranquillo che Dio l'ha visto tu no ma Dio l'ha visto anche il marito se tradisce la moglie bisogna stare tranquilli e mettere tutto nelle mani di Dio perché Dio a suo tempo renderà giustizia e lo farà lo farà come è stabilito nella legge così anche per i suoi figlioli oggi se uno gli rimette tutto nelle mani cioè non è che adesso dobbiamo fare la stessa pratica di fare quel tipo di sacrificio o bere di quell'acqua di maledizione però una cosa è certa che si può pregare Dio e dire Signore io mi sento male perché sento questo sentimento mi sta vincendo mi sta mi sta governando e io voglio che tu manifesti le cose come stanno veramente e quindi cosa verrà verrà il Signore che se non esiste nulla non c'è nessun tradimento il tuo sentimento scomparirà e quindi sarai libero di nuovo perché è lo spirito di gelosia poi è forte e ti può veramente ti impedisce poi di vivere la tua vita tranquillamente e serenamente voglio citare in mezzo a tutte queste battaglie nella mente voglio citare anche questo perché può essere per alcuni veramente un campo di battaglia enorme che non riesce ad uscirne e nella Chiesa purtroppo ci sono ci sono i fratelli gelosi della propria moglie come ci possono essere anche in mezzo alla Chiesa quindi bisogna stare attenti in mezzo al popolo di Dio come fare bisogna sempre affidarsi a Dio sempre la parola cioè se tu non hai prove certe non puoi lanciare accuse non puoi lanciare accuse a tua moglie non puoi fare scenate non puoi agitarti allora prega e Dio chiede al Signore e poi lo manifesterà a Lui se non c'è nulla e sparisce questo tuo sentimento vuol dire che non c'era nulla ti sei sbagliato ti sei sbagliato quindi quindi dobbiamo vivere anche in questo caso anche questi sentimenti interiori che se noi li elaboriamo con la mente cominciamo a elaborare un pensiero negativo lo cominciamo a covare come un uovo di serpente e poi l'uovo si schiude e nascono serpenti e possono creare dei sentimenti molto negativi e può produrre dei danni enormi alla vita di quella persona ma anche alla vita della moglie o del marito su cui si scarica la gelosia capite purtroppo ci sono c'è anche questo sentimento che la scrittura ne parla ampiamente ed è giusto parlarne anche noi in qualche punto bisognava parlarne e nella battaglia mentale ci stava bene perché tra le tante battaglie che il credente deve affrontare c'è anche questa c'è anche questa la deve affrontare nella maniera corretta non non farsi prendere soltanto non agire solo per impeto e per sentimenti ma bisogna rendere le cose oggettivamente capite cioè obiettive devono essere così ma io sto ho questo pericolo di perdere una persona cara devo vedere quali sono gli elementi concreti e certi che mi creano questo che mi fanno vedere questo pericolo se non c'è allora è una cosa che sta nascendo solo in te però come puoi risolvere lo puoi risolvere pregando Dio e avendo fede in Dio riposandoti in Lui perché vedete questo lo ha previsto anche nella legge di Mosè tanto più oggi se tu presenti la tua richiesta a Dio ecco che il Signore ascolterà quindi devi avere fiducia che se è una cosa succederà che Dio lo manifeste se invece non è così ma è stato solo un attacco di uno spirito di gelosia che ti ti ha preso allora così come è venuto se ne può andare via se ne deve andare via e tu non avrai fatto danni non avrai fatto scenate non avrai fatto discussioni inutili non avrai litigato con nessuno senza motivo capite che dopo si può rovinare anche la buona reputazione che uno ha anche con gli altri che se uno che ne so vedi un uomo un caro fratello che sta parlando con tua moglie in piazza così cioè mica per forza devi pensare che sia il suo amante capite che insomma magari si sono incontrati e si stanno salutando com'è giusto che sia cioè non è che se li vedi abbracciati è un conto baciandosi è un conto ma se tu li vedi a un metro di distanza che stanno parlando cioè in piazza davanti a tutti cioè perché devi pensare arrivare a pensare dopo glielo chiederai ti dirà ah sì ho incontrato il fratello mi stava raccontando questo e questo e quest'altro quindi se quindi non farti prendere diciamo anticipatamente da 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 pensieri di gelosia se non hai prove certe se non c'è un reale pericolo capite quindi bisogna vincere anche questa battaglia è furiosa anche questa però nella propria mente dobbiamo imparare che nella mente si svolgono la maggior parte delle nostre battaglie e quindi è lì che dobbiamo vincere cominciamo a vincere da lì e dobbiamo armarci di questi pensieri soprattutto della conoscenza della parola della comunione con Dio di tutto quello che serve per poter affrontare le varie problematiche che vengono nella nostra vita ora vediamo un'altra un'altra battaglia che si è avuta che si è verificata e questa è è stato il Signore a viverla naturalmente noi sappiamo il Signore non ha sbagliato quindi qui la risposta la conclusione è semplice andiamo nel Vangelo di Matteo e leggiamo la tentazione leggiamo quel passo della tentazione di Gesù quando era nel deserto dopo aver digiunato quando fu tentato dal diavolo e facciamo il nostro traiamo il nostro ragionamento da quel passo allora Matteo tentazione Gesù al capitolo 4 di Matteo leggiamo leggiamo mi interessa leggere uno di quei di quei tentativi di seduzione del diavolo quella al versetto 8 di nuovo il diavolo lo menò secco sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse tutte queste cose io te le darò se prostrandoti tu mi adori allora Gesù gli disse va a Satana poiché sta scritto adora il Signore Dio tuo e da lui solo rendi il culto allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli vennero a lui e lo servivano voglio farvi notare che qui il diavolo come cosa ha cercato di stimolare attenzione quello che è scritto è scritto a Gesù per Gesù però lo dobbiamo fare nostro perché le tentazioni del diavolo sono sempre quelle va bene cosa gli ha detto che gli avrebbe dato a Gesù gli avrebbe dato tutte queste cose io te le darò vedete tutti i regni della terra soldi vuoi dei soldi se tu servi il diavolo ti riempirà di soldi di poteri di autorità il re ti darà addirittura dei regni va bene però perderai l'anima tua perderai la tua anima tu non entrerai nel regno dei cieli verrà il momento in cui tu sarai sarai tormentato giorno e notte per l'eternità questa è la conseguenza però attenzione il diavolo ti sta dicendo che tu puoi arricchirti che tu puoi avere tante donne che tu tanti uomini che tu puoi avere potere tu puoi comandare tanta gente tu sei più intelligente degli altri tu puoi avere tante cose tu oggi non hai non hai quello che ti meriti questi sono i pensieri che ti mette il maligno nella testa se tu ti applichi a diventare ricco a cambiare la tua condizione a migliorarla chissà come ad aspirare a diventare un politico ad avere il potere tu stai perdendo c'è stata una tentazione nella tua mente e stai perdendo perché stai desiderando stai desiderando cose che non ti competono il maligno sta facendo leva sulla superbia sull'orgoglio sul voler apparire sull'innalzarsi sopra gli altri uomini capite quindi uno deve desiderare di essere quello che il signore ha stabilito per lui né più né meno tu sei figliolo dell'idiotissimo quale altro titolo hai bisogno tutto il regno tutta l'eternità ti appartiene ma di che cosa hai bisogno di soldi di un milione di euro hai bisogno di 10 miliardi di euro ma se hai tutta l'eternità tutta la terra ti appartiene comunque tutto è nostro insieme al signore Gesù Cristo quindi il signore ci ha già dato tutto ma la cosa più importante è la vita è la vita eterna ci è stata data qui armati di questo pensiero quindi non elaborare altri pensieri che ti portano a gonfiarti a sentirti più di quello che devi sentirti di essere il signore ti ha stabilito ti ha salvato ti ha fatto diventare il suo figliolo e ti ha promesso la vita eterna quindi tu hai la vita eterna qui basta che hai il necessario per vivere va bene quello devi avere il necessario il Dio non ha stabilito che i credenti abbiano regni che abbiano tanti soldi ha stabilito altre cose perché poi dopo devono qui imparare tante lezioni attraverso la sofferenza le necessità che spingono a pregare e a stare in comunione con il Signore imparare tante lezioni e dopo riceverai la vita eterna riceverai vivrai per l'eternità capite quindi ho preso l'esempio di Gesù per dire che quello il maligno ti fa guardare con gli occhi a volte ti fa vedere dei malvagi che prosperano vedi dei malvagi che prosperano e dici ma come Signore io non ho manco un pezzo di pane oggi per mangiare e quello guarda lì butta il cibo ma quello il Dio lo ha stabilito per un tempo lo ha stabilito così per un tempo dopo lui però sarà tormentato giorno e notte e tu sarai in pace e serenità per l'eternità quindi tu vuoi mangiare qui quanto mangia il malvagio e il ricco e puoi soffrire con lui per l'eternità o vuoi soffrire qui quello che il Signore ti dà da soffrire per poi entrare nella vita eterna queste sono le cose è nella mente che si combattono queste cose se tu fai un pensiero sbagliato se tu elabori un pensiero sbagliato ti può portare a conseguenze notevolmente sbagliate con grandi conseguenze a volte un pensiero sbagliato segna la differenza tra la vita eterna e la perdizione eterna capite quindi quando bisogna fuggire il male cacciare via pensieri sbagliati malvagi rifiutarsi di ascoltare quello che dice la parola può essere rischioso molto rischioso quelli che rifiutano di ascoltare ciò che sta scritto non è una questione di velo non è una questione di altre cose che magari possono essere semplici è il rifiuto della parola che ti sta parlando che è grave e quindi quelli lì si stanno riempiendo di guai stanno andando verso la perdizione eterna perché rifiutano non cose semplici come il velo o altre ma stanno rifiutando quello che Dio sta dicendo e se lo hanno fatto lì lo faranno anche su altre cose quindi bisogna stare attenti lo so che essere credenti come vuole il Signore è difficile è più difficile e vedi gli altri che sembra attenzione prosperino i non credenti o i credenti prosperano quelli delle comunità massonizzate li vedi magari sono anche a volte numerosi li vedi sorridenti ma è tutto finto è tutto finto perché purtroppo se vivono nella menzogna se sono in mezzo alla menzogna sappi che non hanno pace non hanno serenità stanno disprezzando la parola di Dio magari non soffrono qui ma soffriranno per l'eternità quindi vedete cosa è meglio cosa è meglio bisogna veramente fare attenzione anche a quello che sorge nei nostri pensieri quello che il maligno mette nei nostri pensieri perché vuole sempre sfruttare le nostre debolezze le nostre necessità i nostri bisogni per infilare i suoi pensieri e farci deviare dalla verità ci vuole deconcentrare dalla strada che stiamo percorrendo capite vuole turbarci vuole disturbarci vuole che dentro di noi nascano sentimenti cattivi vuole che noi elaboriamo pensieri sbagliati perché attraverso l'elaborazione dei pensieri sbagliati facciamo delle valutazioni sbagliate e quindi la condotta che segue a queste valutazioni sbagliate e sono anche la condotta sbagliata faccio un esempio uno valuta una sorella valuta che il velo non lo debba mettere e sta peccando contro la parola contro Dio vedete l'ha valutato ti è stato detto l'hai valutato hai valutato male e stai contravenendo a quello che Dio ha comandato è così una cosa è così un'altra è così un'altra ancora e dopo e tu voi pensate che quelle persone disavvedute stolte che disprezzano la parola di Dio perché non lo fanno solo con una cosa che la disprezzano voi pensate che quelle alla fine se non si ravvedono entrano nel regno dei cieli ma no ma no attenzione quindi dobbiamo essere fedeli in tutte le cose anche nelle cose minime perché noi dobbiamo dimostrare che la parola è fedele e verace noi crediamo in tutta la parola non solo in alcuni punti poi magari in qualcosa sbaglieremo pure a comportarci a pensare però però noi dobbiamo attenerci strettamente alla parola non dobbiamo non dobbiamo perdere e dobbiamo sapere tra le tante cose da sapere c'è anche questa è nella mente cosa sto elaborando cosa sto elaborando cosa ho elaborato e cosa devo elaborare in futuro quindi fate attenzione è nella mente quello che voi lavorate quello che vi arriva quello che elaborate e cosa producete da queste elaborazioni perché ciò potrebbe segnare può segnare la vostra vita la vostra vita eterna quindi bisogna fare attenzione bisogna conoscere queste cose un'altra cosa che può mettere in difficoltà i credenti è lo stimolo è diciamo l'incertezza del domani no? cioè non so se domani avrò da mangiare o i vestiti che mi necessitano capite? quindi l'ansietà quel sentimento di incertezza e di paura che Dio possa non provvedere per me domani capite? questa è l'ansietà ecco anche l'ansietà quindi Dio cosa fa? ci lascia nella necessità ci mette alla prova e noi dobbiamo vincere anche questa prova dell'ansietà questa la leggiamo sempre in Matteo andiamo avanti al capitolo 6 leggiamo al versetto 25 perciò vi dico non siate con ansietà solleciti per la vita vostra di quel che mangerete o di quel che berrete né per il vostro corpo di che vi vestirete non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito guardate gli uccelli del cielo non seminano non miettono non raccolgono in granai e il padre vostro celeste li nutrisce non siete voi assai più di loro e chi di voi può con la sua sollecitudine aggiungere alla sua statura pure un cubito e intorno al vestire perché siete con ansietà solleciti considerate come crescono i gigli della campagna essi non faticano e non filano eppure io vi dico che nemmeno Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro or se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno non vestirà egli molto di più voi o gente di poca fede non siate dunque con ansietà solleciti dicendo che mangeremo che berremo o di che ci vestiremo poiché sono i pagani che ricercano tutte queste cose e il padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose ma cercate prima il regno è la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte non siate dunque con ansietà solleciti del domani perché il domani sarà sollecito di se stesso basta a ciascun giorno il suo affanno cosa vuole dire qui il Signore ogni giorno bada alle problematiche che hai tu non pensare a quello che succederà domani di che cosa avrai bisogno di dopodomani capite perché se no se ti fai prendere dall'incertezza dalla paura del domani di che cosa succederà domani di che cosa mangerò domani che cosa mi vestirò domani ma guarda il creato il Dio da mangiare a tutti gli animali della terra è lui che gli da da mangiare a tutti e non sono suoi figlioli sono solo sue creature quindi c'è un rapporto diverso del rapporto che c'è con i suoi figlioli Dio quindi se con noi Dio è il nostro Padre Celeste e non solo sue creature ma voi volete ma se date a mangiare ogni piccolo passerotto a ogni animale strisciante a ogni tipo di animale ma voi volete che poi non darà da mangiare prevederà il necessario anche a noi figlioli suoi ma certo e qui entra in atto la fede capite qui bisogna vedere la fede che uno ha nel Signore bisogna avere fede in Dio perché se non hai fede ti fai prendere dalle sollecitudini ansiose cominci a avere paura del domani cominci a avere paura di non farcela capite invece se tu hai fede in Dio il Signore ti provvederà sappi che ti provvederà devi avere piena fiducia perché l'ansietà implica incertezza del domani e questa è mancanza di fede capite quindi cercate il Signore cercate prima il regno di Dio la sua giustizia tutto quello che ha insegnato nella sua parola tutto quello di cui uno ha bisogno gli sarà dato gli sarà dato a suo tempo e anche qui molte volte dove si perde questa battaglia dell'ansietà nella propria mente perché tu guardi ma ti fai il pensiero ma io che cosa mangio domani di che cosa mi vestirò attieniti a quello che insegna la parola tu hai un bisogno domandalo al Signore e aspetta che il Signore provveda capite questa è la risposta se tu guardi con i tuoi occhi al domani non puoi arrivare da nessuna parte ti cominciano a tremare le gambe non ce la fai pensi di non farcela è nella tua mente che stai combattendo questa battaglia è nella tua mente stai elaborando pensieri del domani che non ti competono che Gesù ha detto di non di non elaborare capite di darsi pensiero di quello che mangerai perché il Signore provvederà a suo tempo e anche qui questa incertezza non deve esistere dobbiamo nella nostra mente rigettare tutti quei pensieri che ci fanno dubitare delle promesse del Signore bisogna rigettarli perché quella è mancanza di fede il dubbio è peccato e dobbiamo rigettare tutto ciò che alimenta il dubbio attraverso esaminando le cose della parola vedete queste promesse che abbiamo letto oggi che Gesù ha ricordato il Dio veste tutti veste diciamo il giglio il filo d'erba da da mangiare a tutti gli animali ma tanto più il Dio provvederà il necessario ai suoi figlioli gli eredi della vita eterna capite quelli che Gesù Cristo ha comprato a caro prezzo mediante lo spargimento del suo sangue li ha comprati a questo prezzo e volete che voi dopo li lascia da soli e non li cura più non si prende più cura di loro non bada più alle loro necessità se li ha comprati sono suoi gli appartengono e quindi e quindi baderà a loro nei minimi dettagli però attenzione questo anche la necessità è una prova è una prova che il Signore mette nelle nostre vite quindi se hai bisogno di un lavoro se hai bisogno di qualche cosa il Signore te lo sta facendo ti sta mettendo alla prova affinché tu superi questa prova con la fede in Lui perché è Lui che ti provvederà il necessario anche qui vadate bene di affrontare anche questo aspetto nella maniera corretta corretta e volevo citarvi poi un altro passaggio adesso andiamo in Romani per dirvi quale grande battaglia che avviene dentro l'uomo perché spiritualmente il credente è salvato quindi ha lo spirito di Dio va bene il nostro spirito insieme allo spirito di Dio desiderano le cose celesti però noi siamo ancora dentro la carne in questa carne in cui abita il peccato quindi c'è quello scontro continuo tra i desideri che comunque sono legati alla carne e invece i desideri dello spirito è una lotta continua che si combatte dentro di noi e si combatte anche nella nostra mente intanto la prima cosa da fare è sapere che c'è questa battaglia che dentro di noi abita il peccato non solo abita lo spirito santo ma nella nostra carne abita ancora il peccato quindi lo dobbiamo dominare dobbiamo attenerci alle cose spirituali per dominare il peccato e a volte questa battaglia si può passare anche nella mente e quindi dobbiamo sapere che c'è anche questo che nella mente dobbiamo vincere tutto quello che tutti i pensieri che ci vengono alla mente dobbiamo comunque cercare di trovare la via di uscita e la vittoria romani 7 18 di fatti io so che in me vale a dire nella mia carne non abita alcun bene poiché ben trovasi in me il volere ma il modo di compiere il bene no perché il bene che voglio non lo fo ma il male che non voglio quello fo ora se ciò che non voglio è quello che fo non sono più io che lo compio ma è il peccato che abita in me io mi trovo dunque sotto questa legge che volendo io fare il bene il male si trova in me poiché io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interno ma veggo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigione della legge del peccato che è nelle mie membra vedete uno degli scontri che investe anche la mente guardate bene è questo qui che siccome il peccato abita la nostra carne e nella nostra mente il nostro spirito invece hanno desideri producono un volere una volontà di fare il bene però all'attuazione pratica molte volte sbagliamo l'attuazione pratica non corrisponde a quello che noi vogliamo fare praticamente facendo così cosa succede? e noi condanniamo l'azione sbagliata l'abbiamo fatta noi però non siamo d'accordo cioè diciamo signore ho sbagliato così riconosciamo che quello che dice la parola è giusto e quello che noi facciamo è sbagliato e questo è il quando noi confessiamo i nostri peccati a Dio li riconosciamo riconosciamo riconoscendo che la parola di Dio è giusta è verace se noi ci mettiamo a giustificare il nostro peccato allora lì non va bene perché non stiamo giustificando soltanto il nostro peccato ma stiamo condannando la parola come dire la parola si è sbagliata io sto facendo bene capite quindi c'è qualcosa in più quindi da una parte viviamo anche noi credenti che vogliamo santificarci viviamo questo aspetto cioè che vogliamo sappiamo qual è il bene vogliamo fare il bene ma nel momento di farlo ci viene molte volte difficile non riusciamo a fare come dovremmo bisogna saperlo questo perché nella mente c'è questo combattimento anche noi dobbiamo impegnarci a fare il bene stando in comunione con Dio strettamente legati al Signore va bene però dobbiamo sapere che c'è anche questa battaglia e quando perdiamo attenzione perdiamo anche per il fatto che il peccato non ci abbandona mai cioè è sempre legato alla nostra carne noi lo dobbiamo tenere sempre legato nel momento in cui lo lasciamo un pochettino andare che non perseveriamo nella preghiera non perseveriamo nella lettura della parola tralasciamo la comunione fraterna e tralasciamo altre cose ecco quindi che la carne prende il sopravvento e quindi cominciano i pensieri malvagi non più i pensieri che riguardano il regno di Dio ma cominciano i pensieri malvagi facciamo questo facciamo quest'altro facciamo questo male qui facciamo questo male capite quella è la carne e quindi noi dobbiamo essere i guardiani anche dei nostri pensieri noi non dobbiamo permettere che i pensieri sbagliati rimangano abitino nella nostra mente e non scendano nel nostro cuore ben sapendo ben sapendo che in noi c'è questa battaglia continua tra il bene e il male purtroppo finché noi avremo la piena redenzione solamente quando il corpo quando noi avremo un corpo nuovo glorioso risuscitato che non morirà più dove non abiterà più il peccato però fino ad allora dobbiamo vivere questa situazione e dobbiamo armarci di questo pensiero di combattere il più possibile contro il peccato e contro il male come combattere combattere studiando la parola con la conoscenza circondando quindi la propria mente riempendo la propria mente di pensieri che riguardano la verità della parola di Dio e anche con la comunione con Dio mediante la preghiera la santificazione facendo le buone opere con la comunione fraterna perché la comunione fraterna anche ha la sua importanza perché perché si sente parlare e si riceve sempre una parola di edificazione di conforto di consolazione si sente una testimonianza una parola di fede capite quindi anche la comunione fraterna è importante infatti il maligno cosa c'è cerca di isolare le anime le persone dalla comunione fraterna io parlo di quella vera comunione fraterna nello spirito santo non comunione fraterna tra sette quella non porta a nulla capite non porta a nulla quello che è importante è la comunione con Dio nella verità e mediante lo spirito santo non non attraverso regolamenti e statuti personali partoriti dalla mente umana capite noi ci dobbiamo trovare in comunione nelle cose del Signore quello che è scritto nella Bibbia è mediante lo spirito santo ma non nel regolamento negli statuti che sono umani e quindi dobbiamo combattere combattere nella nostra mente tenendo conto di queste cose soprattutto della conoscenza della parola e la comunione con Dio ci aiuterà a vincere le nostre battaglie come è scritto in proverbi in proverbi è scritto che chi padroneggia se stesso vale più di chi espugna città quindi chi è un guerriero che va a dare l'assalto alle città ha un grande valore ma chi riesce a controllare se stesso ha un valore maggiore questo denota quanto è importante l'autocontrollo e il sapersi padroneggiare e questo deve avvenire anche per quanto riguarda le battaglie nella mente che avvengono conoscere anche tutte queste battaglie che avvengono nella propria mente per poter vincere io ne ho citato solo alcune ce ne saranno altre però già sapendo queste uno si prepara alle battaglie ognuno poi ha il suo mostro ognuno ha le sue difficoltà ha il suo punto debole che gli ritorna in mente e lo deve combattere e devi vincere nella tua mente prima di tutto e dopo anche spiritualmente in profondità nel tuo cuore bisogna vincere in tutto con tutto il nostro essere però per vincere dobbiamo combattere con tutto noi stessi sapendo che anche grandi battaglie si svolgono nella nostra mente sapere che la nostra mente è un grande campo di battaglie dove si svolgono tantissime battaglie tutti i giorni e quindi dobbiamo saperlo per sapere come reagire come fare e come vincere questo era era il messaggio che volevo darvi questa sera a Dio sia no la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén